È incredibile come oggi ogni cosa che cerchi su YouTube alla fine trovi qualcuno che te la spiega a metà perché ti dice che però devi comprare il suo corso. Calcola che parecchie di queste persone che vogliono venderti il loro corso sanno a stento parlare o spiegarti davvero dei concetti. Fidati ne ho comprati alcuni. Fortunatamente se ne sono altre che all'interno dei loro format sanno parlare, comunicare e sanno davvero darti un valore. Non puoi pensare di imparare dal nuovo corso di videomaker di Tizio se Tizio te lo propone dalla sua cameretta usando il microfono degli auricolari del telefono in controluce con una finestra dietro. Semplicemente perché un videomaker non lo farebbe mai. Una volta si diceva credi a quello che vedi ma per vedere si intende quello che è palesemente dimostrabile. Questo ci fa capire che non esistono scorciatoie. Chi vuole venderti qualcosa deve dimostrarti di saperlo fare, quantomeno deve dimostrarti di avere la capacità di portarti al suo livello. Questo è saper vendere.